I've got this feeling, I'm feeling you could be the one I see no reason why I should ever let you go Bene, mozzinatissima, però... Almeno io sono andato a gioco, e te? Sì? Sì, è la prima volta che faccio una cosa del genere, mai fatto uno shooting, però devo dire che, beh, non mi sto divertendo Sono molto contenta, per le ragazze mi trovo benissima, è un bel gruppo Mi piacciono molto, sì Siamo tutte diverse, ma tutte bellissime nella nostra unicità Siamo tutti un po' più in là, perché la ballerina la metterai poi in mezzo Allora io ho partecipato al mio primo casting come modella curvi tre anni fa Fra le giurate c'era Barbara Crisman E' stato lì che sono venuta a conoscenza del suo blog, del suo movimento, del suo pensiero, del suo progetto Un anno fa ero presente su questo setto fotografico come truccatrice Quest'anno come modella, chissà quest'altro anno che cosa farò Seguitevi poi in mezzo Barbara l'ho conosciuta tramite email perché trovai la sua proposta di fare questo calendario cinque anni fa Mi ha dato la voglia di essere più femminile perché lei ha il potere di renderti donna Cioè ti fa sentire proprio bene con te stessa E se un giorno dovesse diventare famosa ci sarebbero talmente tante foto compromettenti su di me Che sarei ricattabile da chiunque Siamo sul set del calendario Beautiful Curvy 2018 Sono tutte ragazze splendide, sorridenti, positive Che hanno voglia di portare avanti questo messaggio di benessere, di accettazione E di stare bene con se stesse al di là della taglia nel proprio corpo Laura Giulia Mariangela Laura Giovanna Marta Teresa Elisa Francesca Nadia Anita Nadine Germana Francesca Linda Lucrezia Alessia Annalisa sail ti Alessia Alessia Lucrezia E Wilra Mac E Liqura Ricordi 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 Archives Locrezia Arc Ricordi 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 bliss Grazie a tutti